Padre del figlio e dello spirito santo Il sindaco, taglia sempre il sindaco Il medico Che ha detto? Vabbè ora intanto inauguriamo Siamo pronti? Olè! Grazie! Applausi! 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 Grazie a tutti. In termini di adeguamento e miglioramento sismico, in termini ovviamente a quel punto di efficientamento energetico e di qualità della costruzione va messo assolutamente fuori dal patto e noi abbiamo detto agli amici europei siamo un paese che tutti gli anni dà 20 miliardi all'Europa e ne riceve 12. Sono le regole che hanno voluto un governo tecnico prima di noi. Il bilancio è nato così, 20 miliardi ridiamo e 12 riprendiamo. Francamente sentirsi dire che noi non rispettiamo le regole quando sull'immigrazione chiudono le porte nonostante che abbiano firmato gli accordi e quando sulla solidarietà fanno sempre fatica quando c'è da prendere in carico una parte dell'immigrazione, ma quando c'è da prendere i soldi per mandare avanti i loro bilanci sono solidari come mai nessuno ha in passato bene e il meccanismo deve essere chiaro. Il tempo in cui l'Italia faceva solo dal salvadanaio è finito e quindi a partire dall'inizio scolastica vi prego di lavorare in questa direzione. Naturalmente noi dobbiamo fare di più e meglio alla nostra parte e questo è il segno di amministrazioni che hanno voglia di correre. Un po' di soldi che tu li hai presi sulla scuola, facevi riferimento a questo giustamente, un po' di soldi sulla bonifica dei SIN e questo è un punto importantissimo, non interesserà alla stragrande maggioranza dei giornali, forse domani va sul trafiletto, ma il tema dei SIN, dei SIN di interesse nazionale, è cruciale. Cioè si parla di aree che sono spesso in zone pregiate, tu c'erai praticamente in centro, a ridosso della città, che vanno bonificate. Il numero varia, alla fine il numero vero sono 57 i siti interessati a questo e sono realtà per le quali se mettiamo i soldi per la bonifica si può in atto migliorare da subito la qualità della vita delle persone, perché evidentemente bonificando sistemi un po' l'area. Ma poi possono diventare dei luoghi di investimento e di attrazione quando il vostro sindaco diceva saranno a disposizione per imprese che vogliono fare buona occupazione. Diceva una cosa sacrosanta dunque, con Stefano che ringrazio perché la collaborazione con la regione Miliano Magna non è mai stata così forte e con tutte le autorità centrali, con Paola che è qua, in compagnia dell'unica persona alla quale la De Micheli non chiede il voto, adesso siamo suo figlio e avendo ancora qualche decina d'anni prima di votare, ma il punto fondamentale è che con il lavoro di tutti dobbiamo fare investimenti sulla bonifica e sul recupero degli spazi, questo crea nell'immediato lavoro e qualità dell'aria e in prospettiva crea buona occupazione, la chiamava Andrea. Parliamoci chiaro, siamo tornati ad avere finalmente il segno più sull'occupazione, 656 mila posti di lavoro in più, di cui il 75% a tempo indeterminato, però ancora non basta. Negli anni precedenti abbiamo perso, dal 2008 al 2013 l'Italia ha perso un milione di posti di lavoro, allora noi ne abbiamo recuperati 656 mila dal 2014, ma ancora la strada è lunga e quindi ancora c'è da fare. E io sono convinto che un passettino alla volta, come hai detto tu, il bene comune, e il bene non è la perfezione, è un passo in avanti, giorno dopo giorno, quotidiano, faticoso, difficile, ma bello, affascinante, questo tipo di attività potrà portare il nostro paese a tornare a sorridere al futuro. Lo deve fare nel mondo della sanità, permettetemi di esprimere un pensiero su questo, abbiamo messo 2 miliardi di euro in più quest'anno rispetto allo scorso, cioè sul 2017 saranno 2 miliardi di euro in più sul 2016. Che cosa significa questo? Significa essenzialmente che noi non accettiamo la filosofia dello spreco, tant'è vero che grazie al lavoro con la conferenza dei presidenti, via via le centrali di acquisto stanno facendo risparmiare e andiamo verso i costi standard, cioè la famosa siringa in Calabria deve costare quanto in Emilia Romagna, questo è il punto chiave. Ma i 2 miliardi di euro in più che si sommano ai risparmi delle centrali uniche di acquisto vanno su una giustissima presa di posizione che ha preso il presidente Bonaccini e che io voglio difendere qui a Fidenza, che è quella dei vaccini. Noi abbiamo bisogno di dire che la polemica sull'attività di Bonaccini Secondo l'anno sui farmaci innovativi oncologici, perché il farmaco oncologico, oggi parliamoci chiaro ancora, scusate se sono così, dottore lei mi perdonerà, se il farmaco ti fa vivere una settimana in più è ovviamente un principio giusto, però la spesa dello Stato deve essere ben valutata, ma se un farmaco come quelli sui quali stiamo investendo, da, in alcuni casi, e mica in tutti, non facciamo bassa demagogia su questi termini, ma in alcuni casi, dai 3 ai 4 anni di vita in più, voi capite che sta cambiando la vita delle persone, sta cambiando la vita delle persone, e il simbolo più grande sono i farmaci sulle patite C, perché i farmaci sulle patite C non portano semplicemente a migliorare la qualità della vita, portano a guarire, allora 2 miliardi in più servono a questo, per questo, dall'altro lato la regione è impegnata su perché la vostra struttura e le altre strutture possano andare avanti con forza, il lavoro di Fidenza, di Sanso Maggiore, della provincia di Parma va in questa direzione, io vorrei garantirvi l'impegno del governo, e vorrei dire in particolar modo ai giovani medici, agli infermieri e ai medici, che finalmente quest'anno è l'anno del rinnovo, dopo tanto tempo delle nuove assunzioni del rinnovo del contratto, che è stato bloccato per 7 anni, e credo che è giusto che anche chi ha lavorato nel pubblico facesse sacrifici in un momento in cui stavano saltando i posti di lavoro, era giusto, ma adesso è arrivato il momento, proprio perché sta ripartendo anche gli investimenti nel privato, è arrivato il momento di sbloccare quei contratti, entro Natale Bonaccini fa... Babbo Natale Bonaccini mi accorta 1.100, fa lì entro Natale, perché se li fai entro il 4 dicembre c'è la polemia, quindi fa lì la settimana dopo, no? Fai la settimana dopo, dicendo che volevo entrare il 2 dicembre, no? Lei entra il 12, quindi non si blocca, se no succede confusione. Bene, detto questo, naturalmente sarebbe interessantissimo approfondire come per una comunità territoriale impattino leggi sul sociale, l'aumento del fondo per la nostra sufficienza, la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo, la legge sul terzo settore, la legge contro il caporalato, la legge sulle unioni civili, la legge sulla cooperazione internazionale, tutti i provvedimenti di cui mi piacerebbe discutere insieme a voi, ma che non sono oggetto di questa nostra conversazione, per cui la faccio finita e vi mando a lavorare, anche perché mi ho tenuto un'ora al freddo, provocando per il pronto soccorso un aumento degli ingressi, ma quello che per me è chiave e cruciale è che realtà come Fidenza, realtà come le vostre, si sentano parte della comunità nazionale. Cioè, a me stupisce di essere il primo presidente del Consiglio che viene in visita, ma è fondamentale di non essere l'ultimo, ora io vorrei mantenere ancora un po' ma è il principio di fondo, cioè noi abbiamo un meccanismo in cui immaginiamo che chi rappresenta le istituzioni debba stare chiuso in casa, chiuso nei palazzi, e chi di noi ha fatto il sindaco, qualcuno ha anche giocato a calcio insieme nella nazionale dei calciatori, lui scarsino, io invece facevo direttamente il pallone, chi ha fatto il sindaco sa che non fa il sindaco se non sta in mezzo alla gente e non ci parla. E allo stesso modo questo è valido per chi rappresenta il governo, quindi questo nuovo rapporto tra il governo e gli amministratori per cui non bisogna fare la fila per parlare con un ministro, basta con un messaggino di Whatsapp, è secondo me il metodo giusto per il futuro. C'è però una cosa da chiedere e finire a tutti avere una maggiore attenzione nei confronti di quello che noi come Italia siamo. Io non ne posso più di quelli che pur di fare polemica all'interno sparano sul paese. Allora uno può pensare tutto il male possibile del presidente del Consiglio, del presidente della Regione, del sindaco di Fidenza. Anche se evitasse sarebbe bene nemmeno lo stesso. Ma battuti a parte, ciascuno può avere le proprie opinioni politiche. Ma quello che è fondamentale in questa fase è che noi torniamo ad avere un maggiore rispetto verso il nostro paese. Abbiamo molte responsabilità. A marzo del 2017 scriveremo le nuove regole del futuro dell'Europa con i 60 anni dell'Unione Europea che si celebreranno a Roma. Nel maggio del 2017 a Taormina ospiteremo i grandi, G7. E tra l'altro tra qualche ora scopriremo uno dei partecipanti. O una. Ma dipende a punto. Vorrei che ora i sindaci della Liga fanno gli arrabbiati. Io sarei per una. Però con ognuno comprenderemo chi viene e viene. Preferirei uno francese, invece, a differenza del... Ma il punto chiave è che noi siamo l'Italia. Smettiamo di guardare con gli occhi bassi il posto dove camminiamo. Guardiamo con occhi all'altezza delle nostre speranze e dei nostri orizzonti. E bisogna farlo anche a Fidenza. Bisogna farlo non solo a Roma. Bisogna farlo nei comuni dove è più forte il mondo vero, la realtà vera, dove la gente ci prova, ci crede e come ha dimostrato Andrea non è in grado di fare le cose. Dopodiché il fatto che lui abbia portato via tutti questi soldi al governo è segno di una scaltra politica, una intelligente visione e di una visione politica importante però voglio dire a tutti gli altri sindaci mettetevi a lavorare e soprattutto sulla progettazione torniamo ragazzi insieme a progettare. Io quando ho fatto il sindaco ho visto che si era smesso di progettare perché l'austerity ci aveva bloccato, eravamo sindaci insieme, abbiamo vissuto quella fase. Adesso mettiamo al centro l'Italia, rendiamola più semplice ma rendiamola più agile perché se facciamo ripartire l'Italia riparte anche l'Europa e il fatto che ce lo diciamo dal pronto soccorso di Fidenza è un segnale meraviglioso perché vuol dire che siamo i più forti di tutti e siamo capaci di guardare a domani con uno sguardo carico di emozioni, di ideali, di passioni e di valori. Viva Fidenza, viva l'Italia. E con le prossime sfide del prossimo anno io sono ampiamente sistemato perché ho da mangiare per i prossimi 6-7 mesi. Grazie. 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 Grazie.